Liberi dalla droga ma i schiavi è la campagna lanciata a livello nazionale da Fratelli d'Italia poco più di un anno fa e interrotta a causa del lockdown. Oggi a Pavia il consigliere comunale Paola Chiesa rilancia l'iniziativa chiedendo a tutti gli amministratori del capoluogo di sottoporsi al test antidroga. Liberi dalla droga ma i schiavi è il titolo di un'importante campagna nazionale di Fratelli d'Italia. È una campagna storica, è una campagna identitaria, è una campagna per noi prioritaria. Non deve passare il messaggio che ormai drogarsi è normale, che tanto è una moda, che tanto lo fanno tutti. Per noi non esistono droghe leggere e droghe pesanti. Per noi fumare uno spinello equivale a utilizzare sostanze come la cocaina e come l'eroina, perché per noi la droga è droga. La politica deve dare il buon esempio. Ricordo in particolare quando Ignazio Larussa era ministro della difesa che aveva proposto a tutti i parlamentari di sottoporsi a un test antidroga. E ricordo anche che all'epoca qualcuno si era rifiutato. Ma la politica non deve dare il buon esempio solo a livello nazionale. La politica deve dare l'esempio anche e soprattutto a livello locale. E sarà proprio la stessa Chiesa a dare il buon esempio effettuando per prima il test. Un'iniziativa che vuole essere un modo per sensibilizzare politica e cittadinanza rispetto ad un'emergenza che si è acuita con lo scoppio della pandemia. Per questa ragione ho deciso di sottopormi al test del capello. Lo farò qui a Pavia in medicina legale e poi renderò pubblico l'esito, renderò pubblico il risultato. Un invito. Invito tutti gli amministratori del territorio, non solo di Fratelli d'Italia, ma anche delle forze politiche di minoranza, di centro e di maggioranza, di fare altrettanto. Perché a mio avviso la lotta alla droga non deve avere colore politico. Diciamo tutti insieme basta a questa piaga nazionale. Dati alla mano stiamo vivendo davvero un'emergenza. Un'emergenza nell'emergenza, anche in piena pandemia. È un piccolo gesto, è un piccolo segnale, ma per dimostrare che la politica è vicina alla lotta alla droga. Io per prima dico no.